ed eccoci qua o la todes ritorna dopo lungo tempo times up ritorna con un'idea con l'idea solita quella di prendersi del tempo di trovare una notizia interessante di raccontarla e di raccontarla coi toni giusti oggi ho quella notizia lì la notizia in italia è stata pubblicata dal correo della sera poi ha poche altre informazioni girata però sui social ed è una notizia molto interessante io l'ho presa da un giornalista da un giornalista inglese su con base a mosca che si chiama danny amstrong e ve la leggo e ve la leggo è in inglese però ve la traduco già le sorelle le scacchiste le sorelle ucraine gran maestre maria e anna musicuk saranno sospese ed escluse dalle competizioni dalla federazione scacchistica di il viv di leopoli per per intenderci per essersi rifiutate di sottoscrivere una lettera aperta alla rivolta alla federazione internazionale di scacchi cioè la fide per bannare le atlete gli atleti della federazione russa e della bielorussia la notizia è vera e sta circolando anche su alcuni profili social italiani il fatto è come sta circolando e di cosa stiamo parlando perché la notizia amstrong l'ha pubblicata ieri alle 9 del mattino io suppongo ora almeno qui o penso si si riferisca all'ora italiana quindi parliamo comunque 9 40 quindi parliamo comunque mezzogiorno una ora di mosca e quindi parliamo di più di 24 ore fa la notizia adesso un po sta avendo un po di circolazione però di cosa parliamo mettiamo insieme un po di punti la lettera scritta dalla federazione di di vive che tra l'altro si trova tranquillamente sui sui profili social è una lettera risalente a due giorni fa è stata pubblicata alle 11 qui ora ora qui ora ora italiana ed è rivolta ad alcuni e riprende alcune cose che la federazione ucraina aveva scritto la federazione statistica ucraina aveva scritto ai membri della federazione europea circa un mese fa la lettera l'abbiamo del giusto mese fa di 10 marzo e si stabilisce in tre punti ve li leggo anche qua toglie a proibire agli atleti russi pelobrussi dal partecipare in alcune competizioni con con la bandiera o anche senza poi proibire agli allenatori e così via e in chiedere la convocazione immediata dell'assemblea generale della fide quindi la federazione internazioni scacchi per chiedere le immediate dimissioni del presidente della fide giorkovic una persona che leggo ponendosi molto vicino a putin è personalmente responsabile della formazione delle politiche estere aggressive della russia cosa si intende qui c'è un punto importantissimo chi è arkady giorkovic arcady giorkovic lo leggo molto tranquillamente da wikipedia è un politico ed economista russo è il presidente della fibe dal 2018 e leggiamo anche un altro aspetto è stato consigliere personale di mente di medvede durante la presidenza dal 2008 2012 e fa parte di russia unita medvede non è un oligarca come è stato descritto come è stato descritto tra l'altro in alcuni in alcuni articoli tra l'altro su wikipedia c'è una cosa molto interessante che io vi sottolineo che tra le onore efficienze estere c'è l'ordine al merito della repubblica italiana questa è una cosa magnifica io la trovo personalmente adorabile comunque giorkovic cos'è è un politico di russia unita è un politico chiaramente schierato con putin attualmente è ed è il presidente della federazione internazionale quindi comunque è una posizione estremamente importante ed è in questo momento comunque giustamente in discussione per il proprio ruolo di sostanzialmente protettore di un certo tipo di interessi ricordiamo che gli scacchi sono uno degli sport dove maggiormente la federazione la federazione russa il governo russo hanno esercitato il proprio ruolo di soft power all'interno del mondo dello sport però ora questa è una questione un attimo particolare torniamo al caso di di anna e maria music music di chi parliamo intanto parliamo intanto di due scacchiste di altissimo livello infatti sono sono a lungo sono ancora adesso tra le top mondiali ora prendo la classifica attuale delle top 100 delle delle scacchiste di aprile di quest'anno quindi proprio in questo momento in vigore e entrambe sono nella top 10 maria music è ottava e anna music è scusate anna maria music è quinta e anna music è ottava quindi parliamo di due scacchiste di primissimo livello e parliamo di due scacchiste che per le loro posizioni avevano fatto già parlare di sé per esempio anna music nel dicembre 2017 si era rifiutata di difendere il proprio titolo in arabia saudita l'arabia saudita aveva pagato un milione e mezzo di dollari per ospitare le finali della competizione della competizione scacchistica mondiale a a riad c'erano già tutti i discorsi attorno a mohamed di salman ora su questo non non torniamo comunque lei si era rifiutata perché secondo lei giocare in un luogo dove la donna era una soggetto secondario era una cosa che lei non riteneva accettabile non era non non era disposta a derogare per soldi a questa a questa cosa qui e quindi c'era stato la notizia aveva avuto molta eco nazionale internazionale trovate degli articoli io ne consiglio uno molto breve ma anche ben 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 fatto dal dal guardian in cui si recuperano le informazioni sommarie e tra l'altro si trova anche il il post dell'epoca di anna music sui propri profili anna music che è molto attiva sia su facebook sia su instagram nella quale nei quali scrive e pubblica sia in inglese sia in in ucraino e vi leggo un passaggio che secondo me è molto importante nei prossimi giorni a me non mi dico l'inizio tra pochi giorni andrò a perdere i due titoli mondiali vinti soltanto perché ho deciso di non andare in soldi non per non per giocare con le regole di qualcun altro non per indossare il jab non per essere accompagnata fuori non per non per essere accompagnata fuori o essere o sentirmi come una secondary creature quindi creatura secondare quella la frase che ebbe molto eco in parliamo ormai di quattro anni e mezzo fa tutti questi apparentemente incisi servono a darci un connotato di chi parliamo e ci danno anche un connotato secondo me di equilibri che ci sono da molto tempo all'interno del mondo degli scatti internazionali comunque torniamo alla vicenda in perché perché nelle ultime ore ci sono state due novità molto interessanti la prima è che anna music si è esposta pubblicamente con una lettera aperta tra l'altro lettera aperta firmata anche dalla dalla sorella maria nella quale sottolineano alcune questioni molto interessanti la prima la prima questione la prima questione è il fatto che il loro problema non è sulla lettera in sé ma su una parte del contenuto io parto dal punto più debole secondo me di questa lettera che nel primo punto in cui parlano del presidente del presidente della 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 federazione e vabbè purtroppo mi impallo un attimo vi chiedo scusa dorcovich il presidente d'orcovich in cui dicono in cui dicono sostanzialmente prima che non non ha senso fare un tipo di richiesta se comunque è un è un problema che la federazione internazionale non si è posto cioè loro ritengono un obiettivo vuoto però loro dicono che dorcovich al momento non ha non ha ruoli all'interno della federazione internazionale e questo non è non è vero quindi comunque questo è il punto un po più debole della lettera sono interessanti secondo me i punti due o tre loro criticano il divieto nei confronti della degli atleti degli atleti della federazione russa e belorussa perché dicono ed è un fatto reale che una parte degli atleti russi ha sottoscritto parliamo di 20 giorni fa una lettera aperta la let in cui chiedono direttamente al presidente putin di di sospetti so di rifiutarsi cioè di sospendere la guerra loro sono contrari alla all'aggressione all'ucraina è stata una lettera firmata tra l'altro dal da alcune da alcuni degli atleti più importanti della federazione schiacchistica russa quindi non soltanto da nomi di secondo piano faccio un esempio per tutti jan nepognacchi che è il numero uno a livello a livello maschile all'interno del del mondo scacchistico del mondo scusate del mondo scacchistico russo al momento nepognacchi è al nono posto è all'ottavo posto a pari merito con anish giri della federazione londese e comunque a pochissima distanza da addirittura dal podio per esempio dal cinese link di renne che ha 2699 punti contro il 2773 di nepognacchi queste differenze negli scacchi sono minime poi vabbè e quindi bastano pochi poche vittori poche sconfitte per andare in alto in classifica ma questo non non c'entra riguardo il rating del degli scacchi mondiali quello che dicono loro è noi siamo contrari a fare il ban contro tutti noi vogliamo il ban contro alcune figure contro e fanno anche nomi e cognomi loro fanno un esempio io adesso ve lo recupero perché secondo me è molto importante allora e loro fanno questo fanno questo esempio sottolineando secondo noi non bisogna rivolgersi contro 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 tutti bisogna rivolgersi contro chi ha sostenuto esplicitamente chi sostiene la 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 guerra in ucraina noi vogliamo e ribadiscono tra l'altro la loro posizione personale loro continuano a ribadire il fatto di essere di di sostenere le forze ucraine contro contro la la russia tra l'altro dicono oltre a volerli rimuovere quegli quegli atleti che hanno sostenuto la russia sia di augurarsi che vengano assicurati la giustizia un'espressione diciamo così anche forte che però un po rende l'idea un po anche dei dei toni della questione tra l'altro chiudono la lettera con gloria all'ucraina che è una frase che in questi giorni abbiamo imparato a a conoscere è stata molto pronunciata io sottolineo soltanto un ultimo aspetto che secondo me è molto importante prima anzi di andare alle conclusioni è che il 16 marzo è scattata una sospensione per la federazione russa e belussa rispettive persone iscritte da parte della federazione scacchistica internazionale sotto dopo numerose polemiche il punto qual è il tra l'altro c'è stata anche la risposta immediata della federazione di leopoli a al post di di anna music io questo ve lo leggo che è molto molto breve è un peccato che siano comparse ora soltanto dopo che tutta la vicenda di vita da didominio pubblico io ritengo questa cosa qui che secondo me è il vero punto quando si parla di queste storie di sport legate all'invasione russa d'ucraina queste questioni esistono ma vanno contestualizzate cioè andrebbe spiegato bene non so se ci sono riuscito spero perché succedono quali sono i contorni e di cosa andiamo a parlare perché se l'idea è an escluso anna e maria music l'ucraina e non è non è l'alfile della democrazia se serve questa cosa qui per costruire una retorica allora non ha senso parlare di sport e vi prego non fatelo ma lo dico con grande calore non fatelo diamo i giusti punti alle questioni perché questa cosa qui può fare assolutamente la differenza ed è fondamentale tra un racconto sportivo fatto bene e un uso propagandistico delle vicende sportive perché la vicenda è molto delicata questa vicenda reale cioè la sospensione è reale la federazione di il vive le sospenderà ora magari può fare marce indietro può esserci che ci sia una ricomposizione e magari la lette ci sia un venissi incontro che per quanto riguarda la lettera da proporre alle federazioni internazionali non solo a quella alla fine ma comunque le varie federazioni sparse per il per il mondo per chiedere un rafforzamento delle sanzioni contro la federazione russa e il bilancio russa però le cose vanno date nel giusto contesto non vanno strumentalizzate se no il racconto sportivo finisce non in secondo piano in terzo piano e rischia di non avere alcuna narrazione intelligente io credo che questo sia anche un po il tentativo che io voglio fare con times up e che vogliono fare secondo me le tante voci perché ci sono che stanno raccontando le questioni sportive attorno al conflitto al conflitto in ucraina la visione russa l'ucraina con dovizia noi ci risentiamo presto